L'estate è ormai alle porte e quindi è tempo di correre ai ripari. Se vi siete abbuffati durante le feste e ora volete tornare in forma, potete chiedere l'aiuto di Huawei Watch 2, l'evoluzione del precedente modello uscito nel 2015 e sempre prodotto dal colosso cinese. Vi racconto come funziona e a che cosa serve tra poco qui su Tech Princess. Huawei Watch 2 è uno smartwatch, ossia un orologio intelligente che comunica costantemente con il vostro smartphone. Oltre a svolgere le normali funzioni di un orologio, cioè dirvi che ore sono, vi consente di visualizzare le notifiche relative a chiamate, messaggi, email e appuntamenti. Ma il suo lavoro non finisce qui, perché la parte più interessante è proprio quella dedicata alla forma fisica. Con la semplice pressione del tasto inferiore potete entrare nel menu dell'allenamento. Qui sarete chiamati a scegliere il tipo di allenamento che desiderate intraprendere. Tra le opzioni possibili trovate la corsa, la passeggiata, il tapirulam, la pedalata all'aperto oppure la ciclette. Se invece siete dei pro della corsa, potete procedere con un piano di allenamento personalizzato, impostabile attraverso l'app Huawei Health. Durante l'allenamento, Huawei Watch 2, grazie al sensore posto a contatto con il polso, monitorerà costantemente il battito cardiaco. In questo modo saprete immediatamente se state bruciando i grassi oppure se il battito cardiaco sta accelerando a dismisura. La batteria dura fino a un giorno e mezzo di utilizzo continuativo, sempre che riusciate a tenerlo al polso anche durante la notte, visto l'ingombro. Vi state già preoccupando perché non avete uno smartphone Huawei? Niente paura, Huawei Watch 2 è compatibile con tutti gli smartphone Android aggiornati almeno alla versione 4.3 del sistema operativo di Google o con gli iPhone con almeno iOS 8.2. Direi che anche per oggi è tutto, io corro via per andare a rimettermi in forma. Voi nel frattempo, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, andate a visitare il nostro sito www.techprincess.it. Ciao! Ciao!